tutto lo scenario tutto il contesto di tutto questo territorio che non conoscevo sono rimasto estasiato è una cosa che consiglierei a tutti è una cosa fantastica e delle emozioni bellissima veramente quindi è una cosa che consiglieresti assolutamente io penso che se mi ricapita di ritornarci ci ritornerei una cosa ci aspettava inizialmente di queste esperienze ma pensavo il deserto pensavo sai ma niente di tutto quello che ho visto sì è il valico alè